Salve, buonasera a tutti, siamo arrivati all'ultima conferenza, sono molto contento di questo risultato, è stata veramente molto frequentata, posso altro che ringraziare Fabrizio Ricciardelli e la Kent State University che ci ha ospitato in maniera così squisita, è stata una joint venture che penso riprenderemo anche nel futuro perché viene venuto piuttosto bene. Ora stasera è un po' la fase finale, è un po' particolare perché parla il nostro ospite Fabrizio Ricciardelli e parla Esterdiana che sono quelli che l'hanno organizzato insieme a me questo ciclo di conferenze. Fabrizio Ricciardelli è qui a casa sua, è il direttore della Kent State University di Firenze, oltre ad essere un grande esperto di città-stato, di economia, società, di città-stato del Medioevo, quindi è un medievista affermato. Ci parlerà appunto della Firenze ospedaliera perché in quel periodo Firenze era tanto grande, era tanto grande anche quegli ospedali che ha messo in atto e poi ha messo in atto e ha costruito il più grande ospedale che è Santa Maria Nuova. Esterdiana è la più grande esperta di Santa Maria Nuova fondamentalmente nell'architettura e nell'organizzazione dell'ospedale, ha dedicato diciamo decenni di studi. È stata per tanti anni direttore del Centro di Documentazione Sanitaria e collabora con la Fondazione Santa Maria Nuova. Questa fase, questa ultima conferenza che parla appunto di ospedali in un ciclo dedicato a Dante e Santa Maria Nuova si richiama anche all'aspetto medico di Dante, perché l'altra volta si è parlato di Dante filosofo forse anche un po' esoterico, ma Dante ha un aspetto medico, in dubbio chi legge la Divina Commedia e ha un po' di cultura di medicina capisce che Dante aveva una grossa approfondita cultura medica e a parte che era iscritto all'arte dei medici e degli speciali e si vestiva con quel bel vestito rosso, il lucco, che era il vestito rosso dei notabili di Firenze, ma fondamentalmente dei medici fiorentini, quindi ecco c'è una cosa importante di Dante come medico, non è una cosa, e poi ha studiato a Bologna, sicuramente c'era Taddea Alderotti a quel periodo, lui sicuramente ha studiato anche medicina. Del resto la laurea prima era in medicina e filosofia, vi ricordo, e questo è durato fino al 1700, quindi le liaison sono molte, però io questo per dire perché si parla di ospedale, si parla di ospedale perché Dante ha un aspetto anche importante sulla parte medica. Va bene, quindi io ho fatto che chiamare Fabrizio a iniziare, poi dopo Esther continuerà con questa, diciamo, intrigante opzione, cioè Dante che se si ammala dove lo portano a Santa Maria Nuova, stava lì accanto, quindi lo portano a Santa Maria Nuova e cosa avrebbe trovato a Santa Maria Nuova. Bene, grazie. Grazie Giancarlo, buonasera a tutti. Io ho tagliato questa presentazione basandomi su tre piste fondamentali. La prima è sicuramente legata al perché di tutto della società medievale, quindi direi che al centro di ogni valore della società dell'edà di Dante io porrei il valore della povertà. Cioè, quello a cui noi assistiamo nel periodo che va dalla seconda metà del 200, diciamo, alla peste del 1348, è un'esplosione di senso del bello e di organizzazione sociale di una città che come vedremo è attrazione repubblicana, quindi è una città che fa propri valori quali l'alternanza politica, per esempio. Dante è un'evidenza in questa direzione. Ma soprattutto, chiaramente, è capace di leggere i messaggi cardine della cristianità. Per noi, guardare un dipinto di Leonardo da Vinci, un'annunciazione agli uffizi, significa prima di tutto guardare un bellissimo quadro. Per l'uomo medievale, direi, per l'uomo che la persona che viveva nell'edà di Dante, erano molto chiari i valori cardine della cristianità e quindi la crocifissione, il valore della crocifissione, l'annunciazione, il concetto di maternità, all'importanza e la centralità, per esempio, della povertà, come stavo dicendo in precedenza. Ora, è ovvio che al centro di ogni città-stato si pone quindi la cristianità stessa nei suoi simboli. Quindi la tesi di Henri Piren, che ci porta alla creazione del città-stato dopo la battaglia di Poitiers, cioè l'VIII secolo d.C., quindi la cristianizzazione dell'Occidente, ci porta poi a vedere l'evoluzione in loco di varie realtà. Firenze è molto in ritardo rispetto alle città marinare, per esempio Pisa, Genova e molte altre. Per vari motivi, perché prima si sviluppa la società sui mari e poi si va dentro l'entroterra. Quindi Firenze diventa una città-stato, non siamo precisi sulle date, però sicuramente all'inizio, del 1100, non alla fine dell'anno 1000, come succede per esempio per Pisa. Danny Whaley dice che è nel 1084 la formazione della città-stato pisana. Però questo modello viene poi implementato, copiato, utilizzato da molte altre realtà. Quindi la città si struttura innanzitutto con le mura per proteggersi, come si vede da questa bellissima immagine particolare ovviamente di Leonardo Daddi, la Madonna della Misericordia, giusto appunto, perché si va proprio al Bigallo e vedremo che è una delle prime istituzioni a essere creata in città. E poi chiaramente al centro pone i suoi simboli cristiani, quindi è chiaro la Santa Reparata su Firenze, ma è il Battistero fondamentalmente, perché è il Battistero che diventa il motore, diciamo, propulsore della società stessa, il posto dove ci si battezza. Una delle ansie, mi ricordo quando ero studente con Giovanni Cherubino all'estate di Firenze, poi con Franco Cardini su questo appunto, è una delle cose che non è in evidenza, i nostri insegnanti, era proprio questa, i nostri libri di memoria, come i mercanti fossero ossessionati dal battesimo, perché era credenza diffusa che se non si fosse stati battezzati sarebbe in corsi nella dannazione eterna, quindi ovviamente si correva affinché i nostri figli, i loro figli fossero battezzati. Ora, quindi, i simboli cristiani, il Battistero in primis, Firenze ovviamente ha il suo più antico monumento nel Battistero, da lì si parte per la Santa Reparata e verrà poi modulata da Arnolfo di Cambio negli anni 90 e del 200, nel momento dell'esplosione urbana della città, quando il governo di popolo prende campo, ma soprattutto si distribuisce appunto sulle sue mura, cioè i punti cardinali della città diventano fondamentali e lì troviamo l'assistenza sanitaria, perché sono le badie, le abbazie, in fiorentino badia non è altro che l'abbreviazione di abbazia, che permettono intorno a sé di accogliere le varie modalità dell'assistenza. E questo, secondo me, è un esercizio straordinario che bypassa Firenze, perché lo troviamo evidentemente in molte altre realtà. Però vi dico soltanto questo, che il capitolo 94 del libro dodicesimo di Giovanni Villani ci dice che a Firenze di Ospedani ce n'erano più di 30. Quindi, insomma, si parla di un numero veramente largo, di strutture ricettive volte alla sanità, alla cura del prossimo, con le modalità di declinazione che sono tipiche del medioevo. Per un ospedale non era certamente come il nostro Santa Meranova attuale, lo sentiremo poi dalla dottoressa Diana, come si declinavano le varie funzioni dell'ospedale stesso. Quindi è ricetto per il pellegrino, cura dell'anziano, cura del malato, eccetera, ma anche, come dire, struttura ricettiva. Ora, in termini diciamo pratici, io ho preso a simbolo la loggia del Bigallo, evidentemente siamo nel 1244, sappiamo che San Pietro Martire passa per Firenze, grande domenicano, capace di creare proseliti, ovviamente i predicatori chi sono? Sono coloro che sanno convincere gli uditori, sanno parlare al pubblico, al pubblico dei fedeli. Non dimentichiamoci che siamo in una società omogeneamente cristiana, non c'è molta scelta su questo. Per cui, io dico sempre ai miei studenti quando mi riferisco a questi temi, ragazzi, un Presidente degli Stati Uniti insediato, deve modulare un discorso con tantissime declinazioni. Il predicatore del basso e medievale dell'età di Dante ha un soltanto tipo di uditorio, che è quello che capisce, come ho detto all'inizio, tutti i simboli della cristianità. Quindi, Pietro da Verona riesce a creare i proseliti necessari affinché si inneschi in Firenze quel meccanismo diciamo che fa della cristianità il valore, io penso il volano più grande che il mondo occidentale possa aver avuto, perché poi alla fine gli ultimi baluardi della salvezza umana poi alla fine sono lì. Quindi, lasciti al pias causas, come si trova nelle fonti. Quindi cominciano a fiocchiare le donazioni, cominciano a fioccare gli investimenti dei privati su strutture pubbliche. E questo è il vero link del nostro ragionamento, perché una città, una società si rende, come dire, sostenibilmente accettabile nel momento in cui riesce a investire su se stessa. Quindi, attraverso questo meccanismo che per certi motivi può portare la persona a pensare di salvarsi dalla dannazione eterna, di trovare un posto in paradiso, per un motivo o per un altro si rivolge alla cristianità, ciò che succede è quella del reinvestimento di parte del proprio capitale e fioccano, fioccano veramente le donazioni dei mercanti su strutture ricettive, sanitarie, assistenziali. Quindi, 1244, ma prima 1248 l'ospedale del San Gallo. Quindi abbiamo già dai primi anni del 200 esempi in città di fondazione di ospedali, chiaramente piccoli, eccetera. Chiaramente questo coincide con, ed è una nota importante da sottolineare, con l'affermazione in città di cosa? Degli ordini mendicanti, degli ordini minori, che in quel caso sono minori, poi diventeranno assolutamente maggiori. Cioè, i francescani, Francesco Molle nel 1226 e ovviamente i domenicani, con chiaramente due missioni diverse, però, come dire, volte allo stesso obiettivo, quello di cristianizzare, sensibilizzare e quindi far reinvestire sostanzialmente parte del proprio capitale umano sulla società, in vari modi. Un meccanismo assolutamente straordinario. E qui cominciano a, questa immagine ovviamente tarda rispetto al nostro ragionamento, però sintetizza perfettamente ciò di cui sto parlando, la cura dell'altro, no? Ora, ho messo Bernardo Daddi, no? La Madonna della Misericordia, dove intorno a sé ci sono tutte le varie necessità dell'essere umano, no? Quindi dal bere, al mangiare, all'assistenza in generale. Quindi, come direbbero i miei studenti americani, la possibilità to give back, no? Per dare qualcosa indietro alla comunità. Ecco, qui si procede, scuola del Ghirlandaio, siamo nel oratorio di San Martire Bonomini, qui dietro, e abbiamo un'istituzione rivolta, creata per assistere coloro che sono in una condizione di disgrazia, fondamentalmente, no? E in questa struttura si vanno a sintetizzare i momenti della disgrazia, i momenti del bisogno sociale, sostanzialmente. Quindi il discorso della sepoltura dei morti, che apparentemente è un tema poco importante, è fondamentale per la buona gestione sociale e ospedaliera e sanitaria di una qualsiasi società. Napoleone mette mano a questo, no? Spostando i cimiteri dai centri storici fuori dalle mura cittadine, evidentemente, perché si sa, come scrive il buon vecchio John Anderson nel suo libro Studio ospedale e rinascimentali, che già l'ospedale strutturalmente, lo sentiremo dall'autoressa Diana in pochi minuti, hanno tutti i soffitti altissimi, no? Per cui il problema della corruzione dell'aria è fondamentale in un ospedale, per cui si tende a fare questi soffitti molto alti perché si pensa che l'aria appunto vada verso il soffitto e non corrompa quella vicino ai letti dei malati. Ovviamente la vita negli ospedali è una vita, qui presumibilmente una persona viene portata in un ospedale da un'ambulanza, diciamo, di primo soccorso, manuale, quindi malattie della pelle, pusto, le ulcere, febbri, le febri erano diffusissime in questo periodo. Da qui si arriva chiaramente all'organizzazione della società stessa ospedaliera con le figure professionali che sono ovviamente in parte di vocazione, cioè di volontariato, mettiamola così, tuttora no? Le strutture sanitarie utilizzano le sinergie dei volontari, i nostri studenti per esempio fanno volontariato alla misericordia, tuttora, no? Studenti del mondo non necessariamente soltanto della Kansas State University ma anche di altre università americane in città, per cui diciamo una parte delle strutture è, si basa sul volontariato, un'altra parte invece utilizza sinergie, diciamo, a contratto salariate, per capirsi. Quindi si parla di personale infermieristico, abbiamo sentito parlare delle oblate per quanto riguarda il Santa Maria Nova, ma anche di medici, chirurghi, quindi c'è un po' una sorta di corsa anche all'accaparramento, al prendere, all'assumere, no? Il chirurgo dichiara fama in questo periodo. Quindi intorno alle porte cittadini, quindi intorno alle mura, si vanno, quindi intorno alle abbazie di riferimento alle porte cittadine, si vanno a insediare queste strutture ospedaliere che piano piano si organizzano, si organizzano e, come dire, utilizzano le sinergie della città. Quali sono le sinergie principali che la città mette a disposizione? Qui chiaramente c'è la consagrazione dell'ospedale di Santa Maria Nova, ho lasciato una parte in inglese, ma insomma è chiaro il messaggio, e si va sostanzialmente a riferirsi, e questo succede, ripeto, in varie realtà della penisola italiana, principalmente del centro nord, vedete il numero delle città, città-stato, no? Del centro nord sicuramente cospicuo rispetto a questa mappa al centro-sud. nel momento in cui la città si allarga, cioè il numero del popolo, il numero delle persone cresce. Quindi abbiamo la prima cerchia muraria, la città romana nel quadrato, al centro di questa immagine, poi abbiamo la cerchia muraria negli anni settanta del millecento, quella appunto del cosiddetto di cacciaguida, Trisavolo di Dante, e poi abbiamo invece la cerchia muraria diciamo conclusa nel mille trecento e trenta tre, iniziata nel mille duecento e trenta quattro, con una provisione del mille duecento e trenta quattro, quindi esattamente nell'età di Dante. No, Dante non l'avete conclusa perché Dante muore nel mille trecento e ventuno, però di lì a qualche anno viene conclusa quella che è attualmente la cerchia muraria di Dante, perché noi guidiamo sui viali, i viali di circonvallazione, altro non sono che la vecchia cerchia di Dante, poi incontriamo le varie porte, eccetera. Quindi in prossimità delle porte abbiamo la fondazione di badie, di abbazie, e intorno alle quali si formano i vari ospedali. Stavo dicendo appunto che sono le sinergie cittadine a rendere virtuoso questo sistema, faccio l'esempio di l'arte di cambio, che appunto finanzia l'Ebrosario di Sant'Eusebio, per esempio, oppure l'arte della seta, come sappiamo, per gli innocenti, e via dicendo. Quindi cosa vuol dire l'arte del cambio, l'arte della seta, l'arte di Calimala? Vuol dire organizzazione di mestiere. Quindi questa città, dentro la quale nascono progressivamente sempre più consistenti strutture ricettive, non solo private, ma anche di natura pubblica, si struttura ovviamente centralizzata su lo scambio economico. Quindi le arti entrano direttamente al centro della società stessa. Il fiorino è un elemento fondamentale, nel 1252 si conia il fiorino, una delle monete più apprezzate, diciamo, nei mercati delle fiandre, insomma europee in generale, nel tempo, e chiaramente attraverso queste sinergie, questa sinergia tra privato e pubblico, si vanno a costruire strutture che noi pensiamo essere nate per caso, ma in realtà risentono eccezionalmente della volontà del singolo di partecipare alla cosa pubblica. Quindi res, pubblica, si traduce, Firenze, città, stato, città, repubblica, si traduce effettivamente questo concetto in termini pratici. Il cittadino contribuisce alla cosa pubblica. E qui si va a ovviamente costruire, siamo alla fine degli anni 70 del 200, una delle chiese domenicani più importanti, diciamo, del centro Italia, e ovviamente a seguire Santa Croce. Quindi i domenicani e i francescani entrano in città, cambiano totalmente la mentalità dei fiorentini. Firenze è una repubblica dalle sue origini, dall'inizio, cambia il nucleo dirigente, ma non cambia la struttura politica. Dagli anni 30 del 1100 Firenze è una città-stato, quindi le modalità di elezione delle cariche politiche, è la stessa, non cambia, fino a Cosimo I negli anni 30 del 500, però cambiano, si susseguono le figure che stanno dentro il governo. E il passaggio enorme che succede a Firenze, come in altre realtà, ma a Firenze è ancora più chiaro, è il passaggio dalla vecchia nobiltà del contato che si inurba a queste nuove classi dirigenti di natura mercantile, che creano, come scrive Jacques Le Goff, creano il purgatorio come elemento, diciamo, mediano tra le due realtà, quella dell'inferno e quella del paradiso, creano, proiettano l'inferno in una struttura, diciamo, quella del purgatorio, nella quale il peccatore può però, attraverso le indulgenze, diciamo, salire verso il paradiso terrestre e quindi tramite questi, come dire, ordini minori che poi diventeranno assolutamente maggiori insieme ai Gesuiti poi nel 500, cioè di Francescani e Domenicani, si crea questa società basata sul sistema cristiano, sui valori cristiani, che però ha grandi capacità imprenditoriali. E quindi ovviamente si va a consolidare quello che è il centro pulsivo della città, perché senza nam loquendo proprie civitas non dicitur sine episcopali honore decoratur, scrive Jacopo da Varagine. Cioè non esiste città-stato, non esiste città-repubblica se non ha, come dire, ha al suo interno l'episcopato, quindi se non c'è un vescovo. Quindi sostanzialmente se non c'è un rappresentante del Papa, in loco. Quindi avere un duomo, avere una cattedrale significa essere, avere il tono della città, non essere una quasi città, non essere un villaggio, essere una città vuol dire avere un vescovo. E questo ovviamente permette cosa? Un contatto diretto con Roma, ma evidentemente anche la possibilità di dare ai propri cittadini la possibilità della salvazione, come ho detto Eterna. Al centro rimane sempre il Battistero. Chiaramente se Dante avesse camminato, si parla della città ospedaliera della fondazione di Santa Maria Roma, quindi del 1288, elemento che ho omesso scientemente perché lascio il terreno alla dottoressa Diana per l'approfondimento di questo tema, però chiaramente Dante non l'avrebbe mai visto nella facciata in questi termini e avrebbe visto parzialmente l'inizio, diciamo, della realizzazione del campanile, che noi chiamiamo appunto 18, ma certamente non avrebbe visto la cupola, perché la cupola si fa messa nel Duomo con una chiesa in cui piove sostanzialmente, fino agli anni 30 del 400. Quindi Firenze diventa una città straordinaria, importantissima, al centro della quale abbiamo appunto le arti, le vedremo tra qualche immagine, diciamo. Però oltre all'afflato religioso è necessario anche che ci sia un'organizzazione politica efficiente. Ora, Palazzo Vecchio, la prima pietra degli anni 90 del 200, Arnolfo Di Cambio è l'ingegnere che lavora, insomma, l'architetto che lavora ovunque, insomma, dalla Badia Fiesolana alla Torre della Castagna a Santa Croce, a Santa Maria Novella, a Palazzo Vecchio stesso e oltre. Perché? Perché la città si allarga, il Bagello non è più, come dire, sufficiente, rimane la prigione cittadina, il luogo in cui il Podestà esercita il sistema giudiziario, ma il centro politico propulsivo diventa il Palazzo della Signoria, che lo chiamiamo erroneamente Palazzo Vecchio, però è il Palazzo dei Signori, no? E Signoria, ai tempi di Dante, non è altro che il committi, cioè l'ufficio del potere esecutivo, quello dei priori, che rappresentano nel sistema, diciamo, città, Repubblica Fiorentina, l'esecutivo. Quindi abbiamo il Consiglio Maggiore, il Consiglio Minore, quello dei 200, quello dei 500 e poi abbiamo l'esecutivo, che sono, a seconda del periodo in cui parliamo, possono essere da 6 a 12, praticamente, in rappresentanza dei vari quartieri della città. Quindi, e chi sono questi priori? Sono evidentemente espressione del sistema del popolo, no? Del sistema delle arti. E infatti Dante è uno di questi priori. Questa è una pergamena bellissima che ha avuto modo di fotografare in archivio di Stato a Firenze, vedete che a sinistra c'è, sicuramente posso, ma evidentemente perché Dante non era così famoso quando viveva, no? Perché anzi, diciamo che non era per niente famoso in vita, lo diventerà poi con le letture, letture Dante, insomma, negli anni 70, prima che morisse, Boccaccio lo rende un personaggio famoso, però sicuramente questo potrebbe essere un disegnino diciamo ottocentesco su questa provvisione, queste tratte, trarre, no? Tractus, cioè si prendono dalle borse i nomi degli elegibili. Nicola Rubinstein ha scritto un libro straordinario su questo, come il sistema fiorentino, diciamo, cambi nella sua, come dire, espressione di classe dirigente, ma come il sistema politico rimanga sempre uguale. Un po' come l'avvicendamento, mi viene sempre in mente quando parlo con i miei studenti, del sistema presidenziale americano, no? Cioè il sistema che è molto stabile politicamente, contrariamente al nostro, che invece è molto, come dire, soggetto a le tentazioni politiche, quello americano è stabilissimo, quindi che sia repubblicano che sia democratico, il presidente, il sistema ha avuto un piccolo cedimento, un momento, diciamo, di Trump, no? Abbiamo visto tutto all'inizio di questo anno, però il sistema è rimasto stabile sostanzialmente. L'altro grande sistema stabile, io direi, è quello del pontefice, no? Che se voi aprite la Treccane e guardate città del Vaticano, leggete che è un regno, no? Il Papa è un re, fondamentalmente, a livello politico, perché chiaramente è eterno, no? Come potere, perché alla morte di un Papa se ne elege automaticamente un altro, quindi è questa, no? Quella che Kantorowicz ha definito i due corpi del re, no? Perché il Papa effettivamente ha due corpi, quello spirituale e quello temporale. Dante Alighieri viene eletto nel 1302, qui siamo esattamente tra il 15 giugno e il 15 agosto del 1300, sappiamo la storia di Dante, non ho letto il dettaglio della vita di Dante, però Dante non è altro che per me in questo ragionamento che un'espressione di un uomo, di una società di popolo che si afferma appunto a Firenze in questi anni, Dante proviene da una famiglia di, come dire, cambiatori non molto fortunati fondamentalmente e peraltro neanche seguiti dalla sua, come dire, abilità imprenditoriale, perché Dante era interessato appunto a studiare di filosofia, di medicina, di letteratura, piuttosto che dedicarsi alla mercatura. Quindi ecco, cosa succede a Firenze? Succede che coloro che fanno parte del mondo del lavoro, perché un cambiatore è un lavoratore, come lo è un insegnante, come lo è un dottore, un medico condotto, come lo è un infermiere professionista eccetera eccetera, entra in un'arte, l'arte stessa ha, come dire, come comando principe quello di reinvestire parte della tassazione che riceve dal lavoratore, al quale garantisce, diciamo, un sistema, come dire, statuale, condiviso di regole eccetera eccetera, la possibilità che questo lavoratore possa attraverso l'arte contribuire alla cosa pubblica. Quindi le arti reinvestono sulla città, dalla costruzione di infrastrutture di ogni tipo, dalla chiesa alla badia, giusto appunto, mi viene in mente ora Nicolò Acciaioli per esempio, che nasce esattamente a contemporaneo del Boccaccio, primo decennio del 300 e questo tenore non cambia per tutto il 300, direi fino al 400, fino all'avvento del Cosmiano del 1434, quando appunto Firenze diventerà effettivamente una cripto signoria medifera. Però nel momento in cui le arti sono essenzialmente al potere c'è una condivisione di intenti e una capacità di reinvestimento da parte del privato sul pubblico. Questo è il meccanismo virtuosissimo di questa città sostanzialmente. Le arti sono tante, ne contate 21, ma insomma a seconda della congiuntura economica possono cambiare, perché ovviamente risentono di cosa? Della domanda del mercato. Quindi chiaramente si formano le arti a seconda delle necessità del mercato. E le arti cosa fanno? Si regimendano le arti per fare alla società che abbelliscono, ingrandiscono, rafforzano, rendono più sicura, non soltanto dal punto di vista militare, ma dal punto di vista sanitario, scrivono statuti. E la scrittura degli statuti fa sì che le regole siano condivise, che non ci sia molta competizione all'interno delle arti stesse, che tutti si lavori con lo stesso obiettivo, senza competizione interna. La competizione è con le città, chiamo altre. Ricordatevi, vi ricordo, che Firenze è una città-stato, quindi anche Siena è una città-stato e dove finisce il contado e il distretto di Firenze inizia il distretto e il contado di Siena e via discorrendo. Quindi c'è Lucca, Pistoia, Prato. Cioè, nell'età di Dante sono molte le realtà, diciamo, limitrofe che hanno le stesse esigenze, le stesse, come dire, pressioni che ha Firenze. Firenze, una delle prime domande che fece Giovanni Cherubini quando iniziai il mio primo esame di storia medievale molti anni fa fu ma perché Firenze e non altre città della Toscana? Lui dice la storia non è che riesce a rispondere a questo tipo di domande. È semplicemente la capacità dello studioso di analizzare, di evidenziare e narrare i fatti. E chiaramente questa è la risposta. Di fatto cosa succede? Firenze è centrale, vicino all'Arno, i mercanti hanno la possibilità di lavare, no? Per esempio l'ana e seta per colorarla, poi per produrla. Hanno un contado molto fertile, molto ricco, con olio e vino a disposizione. Non ci dimentichiamo che l'acqua non era potabile, quindi si beveva acqua diluita con il vino. Anche le donne incinta bevevano l'acqua al vino. Per cui, voglio dire, avere questi strumenti fa sì che la longevità sia, come dire, considerevolmente più ampia rispetto a altre realtà. Dante immagina all'inizio della sua commedia l'8 di aprile, se non vado errato, del 1300. Quindi sostanzialmente come immagine, diciamo, sua di proiezione della commedia stessa. 15 anni e mezzo del cammino aveva 35 anni. Io non so se effettivamente possiamo essere così cinici da pensare statisticamente a una cosa del genere, però di fatto c'è. Ci sono casi di persone che muoiono oltre, oltre, oltre i settant'anni. Quindi gli statuti servono, come dire, per regolamentare la forza lavoro interna, ma anche per non creare competizione, così che il sistema virtuoso delle arti sia ancora più virtuoso e non entri in competizione con se stesso. Ovviamente l'aggiornamento delle statuti è centrale nell'età di Dante, perché in questi manoscritti, credetemi, meravigliosi, non so se qualcuno ha avuto modo di mai leggerne uno, mi è capitato molte volte, soprattutto durante il dottorato di ricerca, all'archivio di stato di Firenze, sono scritti benissimo, chiaramente da notai che questo facevano di mestiere. Ecco, chiaramente le grosse laterali sono all'ordine del giorno, ma soprattutto abbiamo un aggiornamento del manoscritto stesso, cioè tendenzialmente ogni dieci anni questi manoscritti vengono assolutamente aggiornati. Ora, quindi, Firenze diventa in qualche modo un modello e qui mi appropinco alla conclusione. Ho scelto San Michele perché ovviamente è il simbolo della Chiesa delle Arti, prima Granaio Cittanino e poi dopo il 1343 diventa la Chiesa delle Arti. Perché le arti stesse diventano un elemento, un volano di virtuosismo all'interno della città. Vi faccio soltanto qualche esempio quantistico. Però in una città come Firenze il numero dei forni, ci dice Giovanni Villani, ammonta a 146. Ora, io ho chiamato Confessor Centi Firenze e ho chiesto quanti erano i forni, l'ho fatto l'altro giorno, quanti erano i forni in città oggi? E mi hanno detto, ho risposto, 87. Cioè, nell'età di Dante abbiamo 146 forni, ovviamente la dieta è totalmente sbilanciata, quindi non avevano possibilità di scegliere quale fosse il cibo per la giornata. Però, tendenzialmente di staia di grano si parla intorno alle 3500 staia al giorno. Cioè, un ostaio è circa 15 chili nostri. Per cui si parla di cifre enormi per la panificazione. Chiaramente se non c'era il grano si andava su le castagne, per esempio. Il pane di castagne era l'ordine del giorno, per cui si utilizzava anche questo tipo di prodotti. Però, questo per dire che la qualità della dieta chiaramente poi è studiabile anche attraverso i menu degli ospedali. Il Santa Maria Nuova è ricchissimo di queste informazioni. Vado a memoria e mi ricordo che, sempre nell'età di Dante, di polli se ne mangiava circa 20.000 all'anno al Santa Maria Nuova. Questo per darvi un'idea del numero enorme di quantità di cibo che veniva gestito soltanto da una struttura così importante e ricettiva come il Santa Maria Nuova. Quindi per dire, e qui chiudo, chiudo con la madonna degli innocenti, perché penso sia l'immagine più importante che possa essere condivisa. Il fatto che comunque si riesce addirittura a portare nell'alveo della positività uno dei dirami più grandi che l'essere umano possa vivere, quello dell'abbandono di un minore. Quindi l'arte della seta che finanzia l'ospedale degli innocenti, che chiaramente era preesistente al 1419, perché chiaramente quando si arriva a concretizzare certe strutture, a renderle agibili, già esistevano, in nuce ovviamente, non come le conosciamo adesso, perché l'innocente ovviamente hanno questo porticato meraviglioso Bruno Leschiano. Però ecco, per sottolineare come questo rapporto tra privato e pubblico poi si concretizzi su un sistema, diciamo, ospedaliero, che poi diventa di assistenza direi, che non ha uguali al mondo, perché sostanzialmente Firenze diventa un modello, un modello che poi verrà preso, adottato, mi viene in mente l'ospedale Il Ceppo di Pistoia e tante altre realtà, e poi Lutero ce lo dirà quando passerà per andare a Roma, no? Dirà che il Santa Maria Nuova, uno dell'ospedale, è una delle eccellenze dell'Europa, della cristianità. Mi sembra di capopo della cristianità. Per cui ecco, io chiudo qua, perché sostanzialmente non esiste alcun tipo di società virtuosa se non esiste un sistema, come dire, politico, sociale, che la supporti. E Firenze credo che abbia sviluppato un modello proprio in questa direzione. Grazie. Grazie Fabrizio. Faremo delle domande finali, naturalmente. Faremo un bellissimo escursus. Grazie. E questa è l'intensità dell'applauso, significa che veramente hai centrato il tuo discorso. Esther, prego. Allora, io sono molto contenta di concludere questo ciclo, perché la mia relazione non poteva essere altro che l'ultima. Perché io vi invito a una speculazione un po' fantastica. Il mio contributo è una relazione che si basa su se Dante non fosse stato costruito a tornare Firenze nel 1302, se Dante non fosse stato un esule, se Dante non fosse stato pinzato da questa maledetta zanzara nofele in quel di Comacchio, ma fosse stato magari pinzato nelle paludi della Chiana, della Val di Chiana, di Bientina o di Fucecchio. Ecco, cosa gli sarebbe potuto succedere? Voi mi direte, ma questo non è accaduto in realtà, allora che vale parlarne? Sì, vale perché a volte la storia, il contesto storico, in qualche modo si può avvalere di personaggi che ci possono aiutare, personaggi importanti, a capire diverse, a fare delle correlazioni, degli approfondimenti. E questo è il caso di questa mia relazione, cioè attraverso gli occhi di Dante per un certo punto, perlomeno, vediamo un po' quale poteva essere, com'era la situazione di un ospedale che amiamo tutti, che è quello di Santa Maria Nuova, va bene? Allora, qui per andare avanti, scusate, eccoci, eccoci. Allora, quando Folco Portinari inizia a pensare alla edificazione di un ospedale, siamo intorno, quando lui comincia ad acquistare i primi casolari, a fare le prime permute, eccetera, siamo intorno al 1285, quindi Dante ha poco più di 20 anni, forse si è già sposato con Gemma Donati o è lì lì per farlo. Comunque, come tutti i fiorentini, sarà stato attratto da questa costruzione, questo aggregato di costruzioni che veniva a sorgere e che in qualche modo controvertiva quello che, appena detto il professor Ricciardelli, erano i luoghi usuali di collocazione delle istituzioni sanitarie. Abbiamo sentito, vicino alle porte di percorrenza, accanto agli istituti religiosi più importanti, va bene? Questo invece è un ospedale che si colloca in un'area abbastanza particolare, intanto è un'area della città, considerando che le attuali via Bufalini e via Sant'Egidio non erano altro in questo momento che la distruzione delle cerchia, delle mura della prima cerchia comunale, quella del 1176. Quindi, e già si profilavano come assi viari estremamente importanti perché si stava già, appunto, come già ha detto il professor Ricciardelli, edificando, progettando quantomeno per parti la seconda cerchia comunale e quindi anche le porte. E questa via Bufalini e via Sant'Egidio sarebbero diventate un'asse portante tra le comunicazioni che dalla città fuoriuscivano verso Prato, da una parte, e verso Arezzo, dall'altra. Quindi è una zona molto interessante. Ora, su questa slide torneremo in seguito. In questo momento io vi invito a pensare un attimo a Folco Portinari. Allora, noi non sappiamo molto, non abbiamo molto storia su questa famiglia, però sappiamo che veniva verso il 1125, si era trasferita da Fiesole ed era arrivata a Firenze e si era collocata nella parrocchia di San Procolo, dove avevano costruito la dimora a vita. Ecco, guardate Folco, che è un personaggio tipico di questa spiritualità di cui abbiamo sentito adesso, però guardatelo anche come una figura estremamente pragmatica. Folco è un banchiere, quindi è un uomo che è abituato agli affari, fare il tornaconto negli affari. E considerate che ieri, come oggi, chi fa una donazione vuole comunque un ritorno d'immagine. Quindi c'è sicuramente la spiritualità, questo è un dato di fatto, c'è questa voglia di partecipare al bene pubblico, va bene, per la Chiesa, per quegli istinti religiosi, ma anche proprio per un civismo interiore di ciascuno. Ma è anche un mercante accorto, un banchiere accorto, tant'è vero, lui ben presto lascerà la dimora a vita e si collocherà il suo ramo in una zona estremamente interessante, non banale, in quelle strade di via del corso, via dello studio e un po' anche in via del proconsolo, che sono appunto collegate a tutta questa nuova imprenditorialità che caratterizza quest'area. Quindi, torniamo ora alla nostra diapositiva di prima e vediamo allora, quando Folco comincia a pensare appunto a costruire queste casette dove su una ha fatto rizzare l'ospedale, cosa c'è in questa zona? Questa zona in questo momento è una proprietà, il Cafagium, che era una proprietà del Vescovo Fiorentino, una grandi terreni che arrivavano quasi verso a via Venezia, diciamo la nostra attuale via Venezia, che già dal 1250 il Vescovo accortamente, sapendo ovviamente che c'era in animo questo ampliamento della città, aveva cominciato a vendere, tant'è vero, non è chiaso, proprio nel 1250 si colloca questo grosso complesso che è quello dei serviti. Poi che cosa c'è? C'è questo piccolo oratorio dei frati Saccati, un ordine minore agostiniano, già dismesso nel 1258, che è piccola cosa, c'è un convento ligneo, c'è un piccolo oratorio, però questi frati hanno un vasto terreno e Folco, che ha già in mente di fare un ospedale particolare, non è un ospedale che deve servire solamente ai poveri, perché ce l'ha in animo. Se noi seguiamo tutta la sua, diciamo la sua attività imprenditoriale, emerge chiaramente, che indubbiamente questo ospedale nasce con 17 letti, destinato al povero, dell'elitto, al viendante, al pellegrino, però c'è già un interesse a farne per esempio un interesse particolare, perché vedremo specialmente negli statuti del 1330 che codificheranno una situazione pregressa, evidentemente pregressa. Quest'area è estremamente appetibile, va bene? Ed è proprio in linea con l'interesse delle arti di fare, tra virgolette, la città, e diventa proprio appannaggio dell'arte della lana. Tant'è vero che guardate quanti tiratoi tra il 1260 e il 1296 vengono a collocarsi in quest'area. Ci sarebbe piaciuto vedere che lo stesso Fulco Portinari fosse in qualche modo interessato a questa attività manifatturiera. In realtà lui è legato all'arte dei mercatanti, non sarà mai scritto all'arte della lana. Però è interessante vedere che intanto, a parte che nel 400 l'ospedale di Santa Maria Nuova in effetti comprerà delle quote, come diremmo adesso, del tiratoio della pergola. Ma fin dall'inizio, se noi leggiamo i confini di queste casette su cui Fulco ha creato il suo originario ospedale, vediamo che molto spesso sono confinanti con dei siti di tinta. Addirittura una famiglia che ha delle proprietà, delle botteghe nella zona attorno a Santa Maria Nuova, che sono i deltovaglia o deltonatenaglia, come a volte vengono denominati, e che sono i primi notai anche per generazioni dell'ospedale, ecco, sono proprietari di botteghe dell'arte della lana. Naturalmente cosa succede? Che questi tiratoi che assicurano l'intero ciclo della lavorazione, quindi dalla filatura, dallo sgrassaggio, dalla tintura, dalla pettinatura, naturalmente cosa fanno? Necessitano di molta acqua e necessitano di tante sostanze chimiche e naturali che devono appunto portare il prodotto al risultato finale, al pannolana, va bene? Quindi sono sostanze tossiche, perché per esempio per sgrassare si fermentano piante ricche di tannino, quindi si adoperano acidi, si adopera l'urina degli animali e non solo degli animali. Quindi tutti questi scarichi sono a cielo aperto, non c'è ancora una fognatura e addirittura vengono convogliati in questa fogna a cielo aperto che viene denominata proprio di Santa Maria Nuova perché li passa accanto e il collettore è proprio davanti a quella piazza che Forco Portinari ha già acquistato il terreno nel 1287 a testimonianza di quello che lui vuole, immagina di come debba essere poi l'architettura, la struttura di questo ospedale. Quindi è una zona maleodorante, molto maleodorante, tanto è vero che nel 1200, mi pare, 96, gli abitanti della zona cercano, chiedono al comune di fare una fognatura diversa perché non ne possono più di respirare quest'area malsana. In realtà la fogna verrà costruita solo nel 1319 e sarà la seconda fogna della città, la prima è quella di Borgo Nissanti, non a caso anche lì, proprio destinata a concentrare tutte le acque di scolo di altre manifatture dell'arte della lana, anche quelle. Ecco, quindi in sintesi, che cosa vede Dante in questo momento in cui noi lo immaginiamo giranzolare per queste mura abbattute, questa strada ancora spianata con macerie, appena spianata con macerie che è via Sant'Egidio. Allora, intanto l'ospedale, abbiamo detto, nasce con una struttura modesta, queste casette in cui in una ha fatto rizzare l'ospedale, la chiesa. E questo, guardate, è un elemento estremamente importante perché in questo momento la cura del corpo è secondaria alla cura dell'anima, cioè la malattia è un'origine dal peccato. Quindi l'ospedale, in questo momento, e lo sarà ancora per lungo tempo, è quel luogo di catechesi che deve portare il malato a redimersi, a di nuovo riallacciare la, la, così, il rapporto ottimale con la divinità perché altrimenti le terapie non avrebbero avuto alcun effetto. Qui, ora, il discorso si amplierebbe all'ospedale ricolmo di opere d'arte perché ovviamente deve, attraverso l'opera d'arte, il malato deve cercare di fare questo percorso di espiazione. E poi che altro vede? Vede, per esempio, che c'è già un piccolo cimitero, non è ancora recintato perché i portinari non hanno ancora acquisito il terreno dei saccati, dei frati saccati che hanno acquistato, c'è stato, ci sono state varie controverse, che hanno acquistato nel 1296 ma che perverrà la famiglia solo nel 1312 ed è sarà in quel momento in cui ecco, si potrà cominciare a parlare di una struttura ospedaliera come indicava il professor Ricciardelli perché ovviamente si comincerà proprio nel 1313 ad avere la possibilità di costruire la prima infermeria maschile che ha la struttura proprio dell'ospedale medievale di cui siamo abituati, questa grande navata diciamo con le finestre in quota per questo principio errato di preservare il malato dalle correnti d'aria in realtà lo ammorbavano perché non c'era circolazione d'aria eccetera però in questo momento Dante non vede niente di questo fatto però si ha molto probabilmente assiste già può assistere già alla separazione dei sessi cioè le malate vengono separate molto presto dagli altri malati va bene perché nel 1301 si sa che delle fornaci sempre in questo isolato confinavano con queste donne che sono demandate alla cura e quindi della parte delle malate femminili e quindi molto probabilmente anche le malate avevano seguito queste donne quando sarà possibile acquistare i diciamo tutti i casolari che i casolari non sono le casolari come si può immaginare oggi sono i lotti dove si può edificare quindi sono dei pezzi di terreno che hanno il diritto di edificazione va bene il permesso di edificazione ecco quando si potranno comprare questi isolati questi casolari al di là dell'ospedale sull'altro lato di via Sant'Egidio ecco che infatti poi le femmine tutta la parte delle ricoverate potrà e delle oblate a questo punto potrà essere trasferita poi che altro vede ecco Santa Maria Nuova ha avuto e anche qui dobbiamo dire l'accortezza cerchiamo di vedere un po' l'accortezza del mercante ha avuto come primo impulso sicuramente l'assistenza all'infermo che sia soprattutto infermo diciamo al povero al bisognoso va bene però ha anche saputo molto fin da subito inserirsi all'interno della società fiorentina attraverso quelli che potevano essere i bisogni per esempio abbiamo notizia che nella casetta destinata all'infermeria degli uomini c'era una cassetta una cassetta che era destinata ad accogliere gli oboli che ogni cittadino se voleva lasciava dopo la morte di un parente e quindi in qualche modo Santa Maria Nuova era anche un luogo dove c'è di necrologi praticamente quindi chi lo sa forse Dante avrà lasciato un obolo per Beatrice quando è morta nel 1290 non si sa un altro modo incisivo di entrare nei bisogni diciamo materiali della società è quello che fin da subito presta su pellettili per le grandi cerimonie per quei grandi anche alle famiglie illustri quando facevano queste grandi cerimonie nelle logge ecco che ovviamente avevano bisogno di molte tovaglie di fiandra molti bicchieri molti piatti molte posate e Santa Maria Nuova appunto faceva questo servizio prestava queste cose allora che cosa immaginiamo allora a questo punto che Dante non sia partito nel 1302 noi sappiamo che nel 1289 comincia la sua attività politica cominciano le ambascerie forse partecipa anche alla battaglia di Campaldino quindi immaginiamo che può essere avrebbe potuto essere ferito avrebbe potuto cadere da caballo essere disarcionato quindi che cosa avrebbe trovato a Santa Maria Nuova allora la medicalizzazione dell'istituzione sanitaria in genere viene fatta risalire all'iniziare dall'avvento della peste perché naturalmente la peste chiede risposte a domande che fino a quel momento non avevano avuto alcuna necessità di essere rivolte va bene però molto probabilmente in realtà la peste non è altro che un'accelerazione della medicalizzazione nel senso che c'è già in atto un po' come ha detto il professor Ricciardelli c'è questo ampliamento questo aumento demografico della popolazione che porta anche una circolazione di crisi sanitarie c'è una richiesta c'è un bisogno civico di fare opere pubbliche di assistenza quindi c'è una richiesta di ospedali di istituzioni sanitarie ma c'è anche diciamo una una nuova prassi che sta sorgendo che è quella che verso nel corso del 1200 cominciano a circolare nel mondo occidentale tutte le traduzioni molte quanto meno traduzioni dei testi medici arabi e greci si comincia a tradurre Avicenna Verroè Razus Ippocrate Celso quindi c'è tutto questo bagaglio cognitivo che cosa si concentra praticamente su un nuovo modo di fare anatomia cioè si apre alla conoscenza del cadavere praticamente va bene allo studio del corpo morto che viene sparato sparato è il termine che si usava a Firenze che intendeva spezzettare il cadavere va bene è proprio l'atto di settorio ecco che viene studiato non solo per avvalorare avvalorare quello che il dogma greco il libro il dogma espresso nel libro greco o latino avevano formulato ma c'è anche bisogno spinge alla ricerca allo studio quindi c'è un nuovo modo di indagare va bene quindi questo porta a un progresso della medicina ovvero all'interno dell'ospedale a un progresso della cura dell'assistenza va bene poi c'è lo grande sviluppo delle università degli studi dove appunto l'anatomia riesce a svincolarsi da quelli che erano i divieti religiosi che in fondo non c'erano mai fino in fondo erano più palesi diciamo più che diciamo si potevano arginare tant'è vero che nelle chiese nelle grandi chiese essendo contenitori di cadaveri così come negli ospedali l'anatomia era permessa magari si faceva nottetempo però insomma si faceva ecco però indubbiamente l'università dà un impulso ulteriore alla alla medicalizzazione anche perché organizza meglio e incentiva quella che è la professionalità del cerusico del cerusico e quindi si comincia a delineare una separazione e una diciamo una celebrazione tra virgolette di questa nuova professionalità che magari ancora riesce non riesce ancora a equiparare il medico fisico perché non sempre il cerusico riesce a avere una laurea a conseguire una laurea ed è di una società magari inferiore anche di un certo sociale inferiore volevo dire però comunque comincia proprio attraverso lo studio sul cadavere a avvantaggiarsi di quello che può appunto apprendere e poi naturalmente tutto questo lo sviluppo della medicina legale perché a questo punto se io posso aprire e indagare sul cadavere è chiaro che questo mi può servire per risolvere tutti quei casi oscuri di morte magari per beneficio e quindi anche questo porta avanti l'esperienza il progresso della medicina perché comincia a essere indagato l'organo sano e l'organo malato ecco detto questo avete visto prima quella diapositiva in cui io dicevo che la medicalizzazione nell'ospedale di Santa Maria Nuova è precoce indubbiamente perché pensiamo nel 1288 apre con 17 letti nel 70 anni dopo nel 1347 mi pare che fosse è già arrivato a 220 letti e nello statuto del 1330 che evidentemente codifica una prassi va bene anteriore è ben delineato come non si possa ricoverare qualcuno che non è infermo per non per più di tre giorni che sia religioso laico di qualunque sia siceto e quindi questo lo dice molto lunga sulla svolta sanitaria diciamo verso l'eccellenza dell'ospedale praticamente va bene allora a questo punto vediamo che cosa potrebbe appunto immaginiamo un Dante malato su quali servizi avrebbe potuto contare allora intanto avrebbe potuto cantare su una già delle branche specialistiche diciamo non sono le specializzazioni a cui oggi noi ci possiamo riferire ma comunque fin dall'inizio l'ospedale si avvale di un medico di casa un medico fisso quindi un medico che è pronto per ogni occasione più di tutta una serie in genere anche 5 6 medici che vengono chiamati per l'occorrenza e sono medici specialisti perché si delineano già tre diciamo chiamiamo le specializzazioni va bene allora una è sicuramente quella che cura le malattie degli occhi che in questo momento è l'operazione della cataratta la cataratta la fanno la facevano già i greci benissimo ovviamente non si sapeva che era l'opacità del cristallino che impediva dava questa visione offuscata dell'oggetto non lo si sapeva però comunque si era capito cataratta rimandava a una caduta di acqua praticamente qualcosa che che offuscava appunto la vista e quindi era necessario che cosa togliere questo velo va bene e si funzionava con un ago molto sottile la pupilla in modo da rimuovere in realtà si faceva cadere il cristallino nel bulbo alcolare però in questo caso molte volte se non si moriva di infezioni si recuperava la vista se non si recuperava la vista a quel punto si faceva la diagnosi differenziata del glaucoma va bene quindi questo era già un qualcosa c'erano medici che facevano questo poi che altro i medici che racconciavano le ossa ovviamente va bene e soprattutto i medici per i capi rotti cioè coloro che per percosse in battaglia ricevevano delle bastonature in testa e quindi che cosa si doveva fare si doveva cercare di togliere ovviamente non si entrava non si operava nel cervello ma si trapanava per cercare di assorbire di togliere il sangue o il liquido cerebrale che andava a comprimere la massa del cervello e quindi in qualche modo va bene quindi c'era questa specializzazione e poi quella forse più importante era quella che curava il mal della pietra cioè i calcoli renali che andavano a così a occludere l'uretere quindi non favorivano la fuoriuscita dell'orina provocavano coliche dolorosissime fino poi alla seticemia va bene quindi ecco quindi questo era un po' il range della 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 situazione dell'offerta sanitaria di Santa Maria Nuova e poi soprattutto le febbri come venivano ricordate che in questo momento sono una malattia considerata e non un sintomo di malattia va bene ecco quindi allora se torniamo al nostro al nostro Dante allora Dante era comunque sì un ceto diciamo di una medio va bene però indubbiamente probabilmente non sarebbe stato ricoverato a Santa Maria Nuova avrebbe potuto permettersi un medico a casa propria però mettiamo forse questo medico ecco magari avrebbe potuto avvantaggiarsi della farmacopea di Santa Maria Nuova che fin da subito è una un punto di produzione di farmaci importanti per la città e questo resterà sempre perché si avverrà sempre di molti molti personale che andranno d'estate in primavera nelle stagioni consigliate a praticamente a raccogliere tutti quei semi cortecce vegetali la farmacopea del tempo prende si avvale di tutti i tre i mondi vegetali animali e minerale però indubbiamente ecco questi raccoglitori raccoglitrici portavano una grande quantità di composti che poi venivano manipolati nella farmacia allora parliamo della malaria Dante appunto è stato punto probabilmente ormai assodato dagli storici che è morto di questa febbre terzana perniciosa ora la malaria come dice il nome malaria già nel periodo già da Ippocrate e poi Plinio e da altri Catone Caro eccetera avevano individuato la correlazione tra queste febbre intermittenti terzana o malaria o quartana a seconda di quando sopraggiungeva di quanto durava il picco febbrile e appunto lo avevano già associato a questi acquitrini a queste acque stagnanti paludose ovviamente non sapevano non conoscevano né il parassito né il vettore va bene di trasmissione però questa correlazione l'avevano fatta era ben chiara anche perché in questo momento la terzana la quartana non erano erano indeniche c'erano si diciamo appuntavano soprattutto sulle frange sociali più fragili le persone anziane i bambini però non erano estremamente mortali va bene poi con invece l'incentivazione dei commerci evidentemente di questa famiglia dei plasmodi arriva forse dall'Africa il plasmodium falciparum il quale appunto porta questa febbre terzana perniciosa altamente mortale cosa portava febbre elevata anemia astenia insufficienza renale edeni cefalopatia e poi alla fine il coma cerebrale quali rimedi c'erano il chinino è diciamo la china cioè questa radice di questa erba di questa pianta peruviana la cincona che viene portata dai genosuiti nel 1600 ancora appunto è lontana anche perché il suo alcaloide colui cioè l'elemento che è effettivamente contro che sarà efficace contro la malattia è il chinino che verrà diciamo così trovato come si può dire selezionato solamente nel 1800 quindi che cosa si poteva fare allora nulla si poteva fare molto poco tutto quello che la teoria umorale in questo momento prescriveva la teoria umorale un brevissimo inciso è quella teoria che si rifaceva alla filosofia greca dei quattro elementi aria terra acqua e fuoco che già la scuola ipocratica aveva diciamo coniugato trasmesso nel mondo della salute umana nel senso questi quattro elementi si traducevano all'interno del corpo umano con i quattro elementi basilari il flegma la bile gialla la bile nera e il sangue quando questi quattro elementi con i loro con i loro con i loro diciamo particolarità che possono essere il secco l'umido il caldo il freddo sono fra di loro in perfetto equilibrio ecco che c'è lo stato di malattia quando per qualche causa che può essere un miasma infetto una congiunzione astrale perché la malattia in questo momento non è spiegata pochissimo spiegata o appunto un peccato ecco che uno di questi elementi o più elementi liquidi vengono in dissonanza ecco che subentra lo stato della malattia quindi il compito del medico io ve l'ho detto proprio sintetizzando in realtà è un discorso che è molto più ampio ma tanto per farvi capire cosa significa teoria umorale cioè il compito del medico era quello di recuperare questo equilibrio perduto attraverso proprio dell'ingezione di liquidi e di una di una di una dieta in modo che si potesse appunto portare ritrovare l'equilibrio perduto qual era la dieta c'erano anche i sali di arsenico venivano adoperati per questa per la per la quartana soprattutto però la dieta cos'era farinate di orzo bevande a base di miele e aceto o di acqua e aceto perché l'aceto per qualsiasi malattia che esulasse un pochino più dalla conoscenza di base quindi che fosse una malattia che in qualche modo diciamo interessava di più l'emotività collettiva ecco che ha bisognava di una sostanza di disinfezione e l'aceto era la sostanza più immediata così come siccome non tutti se lo potevano permettere perché comunque l'aceto corrisponde a una perdita del vino va bene ecco che allora si usava la spremitura dell'uva l'agresto che è acido ugualmente o il fiele va bene e poi soprattutto antipiretici a base di infusi di erbe come la genziana i fiori di finocchio la bettonica e anticonvulsivi a base di camomilla senape e salvia e pillole di pepe e poi naturalmente il salasso che il salasso ecco non nasce come una pratica di prevenzione o terapeutica come noi lo conosciamo in questo periodo si conosceva ma nasce come un castigo che viene combinato al soldato disertore nell'esercito romano quando veniva riacciuffato questo soldato siccome si diceva tu sei stato un vigliacco un debole perché sei fuggito non sei riuscito a sopportare lo stress della battaglia ecco veniva salassato perché tutti potessero vedere quindi indebolito ovviamente perché non si reggeva più in piedi in modo che tutti potessero vedere la sua codardia attraverso la debolezza fisica poi appunto invece proprio con la teoria umorale piano piano il salasso diventa una pratica non solo terapeutica ma anche preventiva e non è solamente una terapia che si fa così ma c'è tutta una scienza astrologica astronomica determinate vene determinati che viene fatto in determinati periodi ore del giorno dei mesi eccetera e quindi probabilmente Dante sicuramente le sanguisughe o delle incisioni con le lancette sicuramente le avrà avute se fosse stato ricoverato a Santa Maria Nuova l'unica cosa che avrebbe potuto un pochino di più addolcire la sua degenza è che ai malati terminali quelli che praticamente soffrivano di gravi dolori veniva fatto bere tantissimo sostanzioso diciamo bicchieri di vino dolce trebbiano o di malvasia il vino è un'altra bevante che scorre a fiumi negli ospedali accanto ai polli sicuramente anche alla cacciagione al pane al frumento e anche diciamo a vegetali che noi adesso usiamo ma fino a un certo momento come per esempio la zucca la zucca era tantissimo usata bene io vi ringrazio dell'attenzione chiudiamo qui grazie a tutti visto il successo penso che nel futuro ripeteremo questa esperienza grazie grazie a tutti Grazie a tutti.